I cittadini come parte attiva e propositiva di un progetto di trasformazione di un'area, quella dell'ex zuccherificio, strategica e spontaneamente in metamorfosi, che in futuro sarà una zona di grande sviluppo e fruizione pubblica. Per questo motivo in cantiere c'è Idee in Comune, un percorso di partecipazione rivolto alla cittadinanza attiva. L'amministrazione comunale è pronta ad accogliere quindi le idee di tutti i soggetti interessati ai temi della riqualificazione e progettazione dell'area dell'ex zuccherificio. L'assessore Paolini ha presentato questo progetto definendolo innovativo ed in seguito l'amministrazione utilizzerà i frutti di questo percorso quale materiale utile ad orientare la progettazione della variante urbanistica dell'area in oggetto. Dal primo di febbraio sarà possibile per i cittadini iscriversi online o presso l'ufficio informazioni qui del Comune a partecipare a tre incontri. che si svolgeranno presso il complesso San Michele, ospiti dell'università, e si svolgeranno il 19 febbraio, il 4 marzo, il 18 marzo con un evento conclusivo il primo di aprile. Quindi noi abbiamo in questi incontri, si parteciperà, si lavorerà e alla fine verrà in qualche modo elaborata la sintesi dei bisogni che i cittadini immaginano di poter vedere soddisfatti attraverso l'area ex zuccherificio. Precedentemente, il 18 febbraio, l'amministrazione incontrerà gli stakeholder, enti locali, portatori di interesse ed economici ambientali per valutare assieme criticità e risorse, oltre alle opportunità dell'area che presenta punti di forza come l'area naturalistica adiacente, la vicinanza al mare, ai cantieri del carnevale e all'aeroporto, e anche le grandi aspettative della comunità e la proliferazione di attività legate al tempo libero in aree limitrofe, che sono vere opportunità di origine esterna che l'area si porta in dote. Noi intanto abbiamo avanzato nel mese di ottobre una proposta stimolo, cioè una proposta aperta al contributo e che in qualche modo possa stimolare anche un dibattito. Si è valutato che in quel sito potrebbero essere intanto installate delle funzioni come quelle sportive per il tempo libero, il benessere, la fruizione dell'ambiente e quindi questo dovrebbe diventare l'elemento significativo e il tratto fondamentale della nuova proposta di variante.